Ciao, prima di iniziare metti un mi piace e premi il tasto iscriviti. Tra le soppopera più amate del nostro paese, c'è sicuramente un posto al sole. Ambientata a Napoli e interamente prodotta in Italia, questa soppopera è diventata nel corso degli anni anche la più longeva. Va in onda su Rai 3 ed è stata creata sulla base della soppa australiana Neighbors, nella quale avevano recitato attrici note a livello internazionale, come ad esempio Margot Obi e Natalie Imbruglia. A proposito di «Un posto al sole», nelle scorse ore l'amata soppopera è stata colpita da un tremendo lutto. Come riportato da Napolito dai.it, Alessandra Masi, attrice che da anni interpreta il personaggio di Chiara Petrone, ha perso il padre. A comunicare la triste notizia è stata lei stessa attraverso una storia pubblicata sul suo account Instagram. In queste ore stanno arrivando tantissimi messaggi di cordoglio nei confronti della giovane attrice.